Bellezza e benessere psicofisico, studio medico dottor Gino Ferroni, medicina estetica, epilazione laser, LPG, lipotren a infrarossi, fisioterapia, magnetoterapia, teccar, ultrasuoni, ionoforesi, tens, laser, onde d'urto. Lo studio medico dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze 51, info 075 800 16 08, ferronegino, chiocciola, virgilio.it Pillole di saggezza a cura del nostro dottor Gino Ferroni, medico estetico. Oggi il nostro dottore ci parlerà di cereali integrali. Grazie Giada, sempre gentilissima nel concedermi questi minuti nella tua trasmissione dove posso dare qualche consiglio a chi ci ascolta. Parliamo dei cereali integrali perché c'è secondo me un eccessivo consumo dei cereali comunemente conosciuti, quindi del grano e quindi pasta con tutti i suoi derivati e farine varie. I cereali integrali vengono usati un pochettino poco, però bisognerebbe abituarsi piano piano, senza naturalmente eccedere, a consumarli. Parliamo di mais, parliamo di orzo, parliamo di riso, parliamo delle cicerchie. Questi sono alimenti ottimi, sarebbero da consumarsi quasi quotidianamente, ma mi rendo conto che non si farà, però almeno un paio di volte a settimana tentiamo di usarli o proviamo ad usarli. Questi alimenti contengono davvero poche proteine e non sono complete, quindi hanno meno lisina per dire, e quindi devono essere completati con l'aggiunta di un po' di lipidi e un po' di proteine derivanti da altri alimenti, quindi carni, pesce e così via. Questi alimenti, questi cereali integrali, sono acidificanti, quindi sarebbe bene consumarli con un po' di frutta, magari nel pomeriggio o a metà mattinata, che alcalinizza e quindi rimette tutto a pari. Sono ricche di fitati, che è vero che i fitati tendono a far assumere meno vitamine, però le vitamine poi le andiamo a compensare con altri alimenti. Questi fitati hanno un'attività antitumorale e quindi è bene, come dico, consumarli. La difficoltà che alcuni pazienti mi dicono, ma dottore, il riso, le cicerchi e l'orzo hanno dei tempi di cottura un pochettino lunghi e non è semplice per lo stile di vita così rapido che noi quotidianamente abbiamo. Piccoli consigli, noi possiamo trovare dei cereali, magari integrali, già spezzati o cosiddetti rollati e quindi che messi in cottura ne riducono il tempo della cottura oppure metterli in ammollo, basta metterli magari in ammollo la mattina, tipo le cicerchi e tipo l'orzo e poi cucinarlo la sera e iniziando a mangiarlo così una volta a settimana poi si può piano piano aumentare perché anche il palato si abitua a questi alimenti, a questi gusti poi scaricando da YouTube, da Internet, dove volete, come cucinare l'orzo, come cucinare il mais e così via troverete dei metodi di cottura molto semplici e molto rapidi che riducono i tempi dai 40 minuti, insomma, il riso integrale, il cosiddetto, come tutti conosceranno, il riso venere si sarà di un colore non bello, si sarà non ottimo come sapore però basta metterci qualche piccola spezia, mettere un po' in bagno, cucinarlo con un po' di pazienza e vi renderete conto dei benefici a livello prima intestinale determina anche un riequilibrio della flora intestinale che favorisce il transito e contiene tante di quelle vitamine, tante di quei minerali che se consumato non dico quotidianamente perché so che naturalmente nessuno poi lo farà ma almeno un paio di volte a settimana si può provare tentate a cucinarle vedrete che poi ne apprezzerete le qualità e i benefici perché riequilibrare la flora intestinale e il microbioma poi vi darà dei benefici su tutto l'organismo anche a livello energetico sentirete poi anche l'energia che vi darà valido anche negli sportivi che magari a volte cedono nell'uso delle proteine o nell'uso magari degli zuccheri grazie per l'attenzione ripasso la linea agiada e a risentirci alla prossima puntata grazie al dottor Gino Ferroni medico estetico vi ricordo che lo studio si trova in via Firenze numero 51 a Bastia Umbra Perugia telefono 075 800 16 08 oppure al 335 43 45 84 il centro estetico progetto immagine si associa ad un nuovo marchio internazionale Beauty Premier Beauty Premier Bastia Umbra offre una vasta gamma di soluzioni per rilassare corpo e mente trattamenti per il viso e per il corpo massaggi, epilazione, manicure, pedicure e solarium inoltre all'interno del centro estetico troverete tecnologie di ultima generazione laser al diodo radiofrequenza viso e corpo infrarossi chiamaci per prenotare un appuntamento Beauty Premier Bastia Umbra via Firenze 51 a Bastia Umbra Perugia telefono 075 80 11 351 radiofrequenza viso e corpo infrariosi tele耶 nord za worldview vedo 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 vedo